Ciao a tutti, buongiorno e benvenuti in nostra compagnia, oggi facciamo Pato Tevez. Però prima di Pato Tevez volevo intervenire su questi scenari che vengono fatti attorno al Milan, però ogni tanto bisognerebbe parlare di Ibra, cioè non si può ignorare così tanto Ibra, ma è una battuta la mia evidentemente, io non capisco chi sia il fornitore ufficiale degli scenari attorno al Milan e vorrei capire quando riuscirà a darsi un po' di requie e magari a creare scenari anche attorno ad altri. Che cosa intendo per scenari? Il mio sembra un pianisteo quando in realtà le lacrime oggi si versano per questioni più serie e poi ci sarà qualcuno che dice l'arrampicata sugli specchi, ci sarà qualcuno che dirà invece della sindrome d'accerchiamento. Non lo so, sono figure retoriche che lascio al buon cuore di chi giudica. Però volevo ad esempio sottolineare un aspetto degli scenari che vengono prodotti, sfornati, artefatti, costruiti a ogni pieso spinto sul Milan. Vi ricordate che di recente si è detto Ante Rebic, il Milan, fa fatica a trattenerlo perché l'Aintracht francoforte vuole 40 milioni. Però se vai a guardare, Ante Rebic ha avuto a livello di gol più o meno lo stesso rendimento che ha avuto André Silva nell'Aintracht. Quindi, perché lo scenario è così fazioso? Perché lo scenario è così imparziale? Cioè perché Ante Rebic vale 40 milioni a André Silva zero? O male che ti vada se trovi lo scenarista magnanimo te lo fa valere 20? Però, così è, e facciamo un sospiro di sollievo. Però ai produttori di scenari dico una cosa, dico che tra Milan e Aintracht francoforte c'è un accordo per un prestito biennale e quello non si cambia. Nemmeno il fornitore ufficiale, il produttore massimo degli scenari può cambiarlo. Quindi la prossima stagione Rebic gioca nel Milan. Alla fine della prossima stagione Rebic avrà ancora un solo anno di contratto con l'Aintracht e sarà praticamente quasi a scadenza. Che potere contrattuale avrà mai l'Aintracht per chiedere 40 milioni di euro? Do un suggerimento al prossimo scenario, così magari almeno questa la evita. O magari viene giustamente ignorata e si passa all'altro. Veniamo a noi che ci teniamo compagnia. Vi ho tenuto in ballo per tanti video con gli aneddoti, con l'aneddotica, con il resoconto cronistico di Pato Tevez e allora facciamolo. Allora, io entro personalmente nella vicenda Pato Tevez l'11 dicembre del 2011. Trasferta di campionato a Bologna. Bologna-Milan 2-2. Una brutta partita dell'arbitro Rocchi. Errori da una parte, errori dall'altra. Il Milan perdeva 1-0, poi vinceva 2-1, poi è finita 2-2. Polemiche da ambo le parti. Solitamente, quando ci sono tanti episodi, la parita finisce 2-2. Noi quell'anno col Bologna ci siamo giocati praticamente lo scudetto perché abbiamo pareggiato all'andata e pareggiato al ritorno. Se avessimo fatto 6 punti col Bologna probabilmente avremmo vinto il campionato. Però non è questo il tema. Il tema è un altro. Solitamente quando ci sono episodi arbitrali così accesi, il ritorno a casa è un po' teso in casa nostra. Invece eravamo in treno, eravamo col Frecciarossa a Bologna. Invece all'arrivo alla stazione noto della... Allora, c'erano intanto... Se proprio devo raccontarla tutta, alla stazione ferroviaria di Bologna quel pomeriggio perché si era giocato in pomeridiana. Era una domenica pomeriggio, si è giocato a Bologna, eravamo tardo pomeriggio, eravamo già in stazione. Si aspetta di salire sul treno. Ci sono i giocatori italiani un po' incazzati. I giocatori italiani non di primissima fascia del Milan un po' incazzati perché notano da parte del gruppo brasiliano del Milan... Ricordo una frase di un giocatore del Milan che mi dice... Si chiama allenamento, quindi in allenamento bisogna allenarsi. L'allenamento va preso sul serio, ultimamente vedo che qualcuno non lo prende sul serio. Perché all'interno del Milan si rosicava per quel 2-2 col Bologna. La lotta a Scudetto con la Juventus era già nel vivo. Però al di là di questo aspetto c'era una certa serenità da parte della società. Tant'è che Adriano Gagliani mi prende sotto braccio e mi fa vedere tutti i messaggi che si era scambiato con Carlito Stevez quel pomeriggio. Prima, durante e dopo la partita. Io non ho fatto lo screenshot evidentemente di quei messaggi, ma credetemi li ho visti. Erano di Tevez, Tevez che dialogava con Gagliani per tutta la giornata, messaggi molto affettuosi. Messaggi di un dirigente, di un giocatore che ormai sono d'accordo e che stanno per fare un accordo insieme. Per cui quando a inizio 2012 c'era stata la famosa foto di Chia Giorabcian, Adriano Gagliani e Carlito Stevez in Brasile, con Tevez che era andato a posto in Brasile per incontrare Gagliani, avevo pensato che fosse ormai tutto fatto. Avevo avuto quel pregresso, ricordo gli sguardi attorno a me, perché tutti si erano accorti che avevo visto qualcosa sul cellulare di Gagliani, che avevo visto qualcosa dei messaggi, quindi ricordo gli sguardi, insomma, c'è competitività dentro un club, c'è adrenalina, c'è competitività e quindi chi non li aveva visti quei messaggi rosicava un po' per non averli visti. Ma vi assicuro che erano tutti i messaggi di Tevez durante Bologna-Minan 2 a 2, prima, durante e dopo dell'11 dicembre 2011. Poi i giorni passano, feste natalizie, la foto di inizio anno di cui abbiamo già parlato e arriviamo alla serata dell'11 gennaio del 2012, un mese dopo Bologna, esattamente un mese dopo Bologna. Quando capisco che il giorno dopo Adriano Gagliani sarebbe davvero partito per andare a Londra e chiudere l'operazione, metto in atto il protocollo, il protocollo adesso, il protocollo deve essere usato per questioni più importanti, però, allora, diciamo la scaramanzia, non il protocollo. La nostra scaramanzia era che, prima di una missione importante di mercato, la sera prima, io scrivevo un messaggio di carico, un messaggio Whatsapp di carico alla società, insomma un messaggio un po' poetico, un po' retorico, un po' enfatico, che nelle precedenti trattative di mercato aveva portato bene. Tant'è che poi alla fine delle trattative di mercato, Gagliani lo faceva vedere alle persone che parteciparono alla trattativa con lui, guardate la passione che abbiamo, guardate l'amore per il Milan, queste cose sono importanti, poi le cose succedono, anche non per questi motivi, ma magari anche per questi motivi. e quindi mando il mio messaggio la sera dell'11 gennaio del 2012, di incoraggiamento, di prospettiva, insomma l'operazione, io devo dire la verità, la volete sapere la verità, non sono mai andato pazzo per Terez, poi sono stato clamorosamente, nettamente, spaventosamente smentito sul campo, ma non sono mai andato pazzo per Carlitos Terez. però era un momento importante, era l'11 gennaio, era un mercoledì sera, avevamo poi il derby in casa alla partita dopo, eravamo partiti bene nel 2012 vincendo a Bergamo, quindi tutto bene, quindi va bene, Terez va bene. Il giorno dopo, io ho già pronto in ufficio a Milan Channel lo schermo con l'inno, il famoso andiamo con l'inno, viene nel mio ufficio una collega, che mi dice, cancella tutto, è saltato tutto, il presidente Berlusconi è stato convinto a fermare tutto, io non ci credo, io non ci credo, anche se la collega in alcuni momenti era sempre molto bene informata, io non ci credo, non ci credo, non esiste. Invece era vero, un'ora dopo ricevo conferma ufficiale, riesco quel giorno solo a parlare con Arieto Braida, Arieto Braida che mi dice, ma no, ma dai, ma va bene, ma non è successo niente, non è un dramma, dai, perché quello era al Milan, anche se prendi, anche se ti succede una, anche se vecchi una trambata, perché quella era una trambata ipocale, storica, pazzesca, anche se prendi una trambata, però non è che ti metti a fare polemica con la proprietà, con il presidente, no, ma bene, dai, mi diceva Riedo, ma dai, ma parto comunque, se sta bene, è forte, non è successo niente, dai, andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti. Adriano Gagliani non è raggiungibile, parla quando torna all'aeroporto dell'Ata una tarda sera del 12 gennaio, il giovedì 12 gennaio 2012, il maledetto giovedì 12 gennaio 2012, dice qualcosa ai giornalisti che lo aspettano, ma non è parlare, è un fare melina. Il sabato 14 gennaio c'è l'allenamento a San Siro, il Milan decide, il pomeriggio prima del derby, di allenarsi a San Siro, il derby è Milan-Inter, un derby di andata. Milan è nettamente favorito, l'Inter, quell'anno avevamo fatto il derby d'andata, loro erano partiti con, noi abbiamo fatto quell'anno tre derby con l'Inter, tre erano erano diversi, loro avevano avuto Gasperini nella finale di Supercoppa di Lega a Pechino, avrebbero avuto Ranieri nel derby d'andata e avrebbero avuto poi stramaccioni nel derby d'alto. Quel pomeriggio lo ricordo perché è il primo pomeriggio in cui Antonio Cassano torna a fare giri di campo, perché noi quel campionato al di là di Pato Tevez se ne sono successi tutti i colori, cioè il problema all'occhio di Gattuso, il problema al cuore di Cassano, non ci fossero stati quei due grossi problemi, il Milan, anche saltando lo scambio Pato Tevez lo scudetto l'avrebbe vinto. Tant'è che quando torna Cassano l'ultima partita poi si vede già che è un altro Milan. Però quel sabato pomeriggio è il sabato in cui Antonio Cassano torna a fare giri di campo a San Siro, la prima volta. Noi tutti che eravamo, tutti, tutti noi, che eravamo a San Siro quel giorno ci davamo un po' di gomito, perché non era il solito Galiani. Adriano Galiani era veramente con le spalle, col collo dentro le spalle, con le spalle infossate, aveva il dolore fisico di quella trattativa saltata. Era veramente abbattuto, mai visto Adriano Galiani così abbattuto. Adriano Galiani ce l'ha sempre insegnato, bisogna essere del mestiere, vinci, perdi, pareggi, sempre stessa faccia, il calcio va avanti, il calcio è ciclico, non bisogna mai far vedere in volto, è una cosa che circa un anno fa anche Fabio Guadagnini ci ha, che viene da esperienze diverse, che viene da ambiti diverse, da sensibilità diverse, però ce l'aveva molto ripetuta questa cosa. Però quel giorno, quel sabato pomeriggio di sole a San Siro, Adriano Galiani era veramente abbattuto. Io, l'espressione era quella di chi, beh allora se il presidente Berlusconi l'ha vietata, l'ha bloccata l'operazione, vuol dire che era sbagliata, quindi mi è sembrato di cogliere questa sensazione nell'espressione, nello sguardo. Poi in realtà il Galiani degli anni successivi ci ha sempre spiegato, ci ha sempre raccontato che il Milan è finito quel giorno, il Milan vero è finito il 12 gennaio del 2012, quando è saltato Pato Terez, ce l'ha sempre poi detto, ripetuto e garantito. Perché se tu fai la coppia Ibra Tevez poi dove vanno gli altri, con tutto rispetto per gli altri. O magari sarebbe il clima inquinato, contaminato che c'era quel giorno nel Milan, perché poi per tornare a Bologna Milan del mese prima i brasiliani c'era chi li proteggeva e come se c'era chi li proteggeva come atteggiamento. Però, al di là di questo, tant'è che poi qualche brasiliano del gruppo se ne approfittava con il resto dello staff, con il resto dei compagni e quindi si era creata la prima crepa, magari anche Tevez sarebbe finito in quella contaminazione, in quella crepa e per cui non abbiamo la controprova. Il sabato sera, 14 gennaio, il presidente Berlusconi fa un comunicato, un comunicato personale suo, non un comunicato ufficiale del Milan, noi non siamo coinvolti nella vicenda. Il presidente Berlusconi fa un comunicato in cui dice l'operazione Patotevez l'ho bloccata io perché non era vantaggiosa né dal punto di vista economico né dal punto di vista sportivo. Io in quel momento ho apprezzato tantissimo il presidente Berlusconi perché in quel momento non sapevamo se era giusta o sbagliata l'operazione Patotevez, però lui ci mette la faccia, lui ci mette la faccia ed era un messaggio di compattamento non pensiamoci più ho deciso io non perdiamoci in mille rivoli non perdiamoci nelle fazioni pensiamo al derby quell'operazione lì ci ho messo io una pietra sopra. Poi la storia avrebbe chiarito e spiegato che era clamorosamente sbagliata quell'operazione però lui ci mette la faccia lui ci mette la firma lui il sabato pre-derby capisce che è il momento di uscire pubblicamente poi il calcio ripeto sbaglio a Zecchi però metterci la faccia è fondamentale e la cosa è il requisito numero uno il presidente Berlusconi lo ha dimostrato io ecco c'è una cosa che mi spiace di tutta questa vicenda che Alessandre Pato non ha avvertito la responsabilità di quello che stava accadendo e non ha capito che la storia del Milan era un bivio e che lui doveva farsene carico per cui non doveva continuare a dare la colpa al mondo di quest'acciacco di quell'acciacco di farsi proteggere contro i cattivi no doveva capire ma era un ragazzo anche Alessandre Pato era arrivato da noi a 17 anni nel 18 anni nel nel settembre del 2007 è un ragazzo di 20 21 anni io oggi dico che se lui avesse fatto un salto in avanti nella presa di coscienza nella consapevolezza nella responsabilità se avesse capito quello che stava accadendo poi se tu è comunque Pato al posto di Tevez Pato vero comunque lo scudetto lo convince lo stesso invece come se niente fosse poi io credo che Alessandre Pato lo abbia capito negli anni però ebbe un atteggiamento poi nelle settimane successive un po' viziato un po' un po' inadeguato e questo creò la frattura dentro lo spogliatoio perché poi è per la frattura dentro lo spogliatoio che noi perdiamo il campionato non per il gol di Montari e per quella frattura Pato Tevez e l'atteggiamento di Pato e tutto ciò che c'era attorno a Pato che noi ci induce ci porta a perdere il campionato naturalmente Andrea Pirlo a Torino con la Juventus le sa tutte queste cose a menadito perché gliene raccontano e c'è la Nemesi c'è la Nemesi perché nell'87-88 noi eravamo dalla parte buona della barricata dalla parte giusta della barricata c'era il Napoli spaccato il Milan lo sapeva e quindi anche se il Milan era dietro continuava a crederci perché sapeva che il Napoli era spaccato e poi vincevamo lo scudetto 87-88 nel 2011-2012 si crea la situazione inversa si crea la situazione inversa per cui il Milan è spaccato l'avversario la Juventus lo sa e continua a crederci continua a rimanere in campana perché sa che prima o poi la crepa si allarga quindi noi di questo abbiamo beneficiato nell'88 e questo l'abbiamo invece pagato nel 2012 è la storia del calcio ciclico come diceva come ci diceva sempre Gagliani e come dicevamo prima giochiamo il derby lo perdiamo perché quando c'è un problema poi quando c'è un problema il problema arriva sempre in campo quando c'è un problema fuori il problema in campo arriva sempre prendiamo la traversa con Van Bommel perdiamo il derby 1-0 vince l'Inter segna Milito e noi che siamo nettamente più forti perdiamo il derby Pato giocò dall'inizio quel derby fece una partita normale ma non era il Pato vero dell'inizio stagione 2010-2011 o della parte finale della stagione 2010-2011 però Adriano Gagliani si riprende da quel sabato da quel sabato delle spalle un po' infossate da quel sabato pesante di allenamento a San Siro prima del derby e torna su Tevez noi nel frattempo giochiamo a Novara l'ultima giornata del girone di del girone di andata Milano vince 3-0 la famosa partita per la quale Antonio Cassano mi prenderà in giro per tutta la stagione perché avevo detto una cosa su un gol che poi c'era stato assegnato e me l'ero rimangiata in telecronica e lui si divertiva molto quindi il 22 di gennaio battiamo Novara nella settimana fra il 22 e il 29 di gennaio si rimette in moto l'operazione Tevez si riaccende il motore e allora io ho pensato beh adesso lo prendiamo perché avevo già visto perché poi la storia delle vicende di mercato ti insegna sempre nell'estate del 2007 io speravo che arrivasse perché pensavo che ne avessimo bisogno Emerson da Real Madrid però poco prima di per agosto il Milan fa un comunicato in cui dice che la trattativa con il Real Madrid per Emerson è saltata il presidente era sempre il famoso Ramon Calderon quello che aveva tentato di ostacolare anche l'arrivo di Ronaldo nel gennaio del 2007 qui siamo nell'agosto del 2007 trattativa saltata allora mi preoccupo beh Emerson non viene più perché all'epoca c'era anche un problema economico mi ricordo che Carlo Ancelotti mi disse un po' sfiduciato beh se abbiamo anche un problema di 3 milioni e mezzo di euro per Emerson allora non siamo messi bene mi disse Carlo Ancelotti a Milanello in una di quelle giornate di quell'estate però poi mi spiegarono guarda che trattativa saltata non vuol dire trattativa chiusa si può sempre riaprire infatti venne riaperta il 22 di agosto credo Emerson tornò a Milano tornò al Milan non era più infatti poi mi scontrai con l'espressione di Merseman e Tognacini che mi fecero capire guarda che il giocatore è scarico il giocatore non farà una grande stagione l'abbiamo preso cerchiamo di metterlo a posto non scoraggiarti ma infatti avevano ragione Merseman e Tognacini non accade nulla di particolare però si rimette in moto Pato Tevez chiedo scusa ho sbagliato non si rimette in moto Pato Tevez Pato resta a Milano Pato non si tocca si rimette in moto Tevez questa volta in prestito questa volta in prestito al Manchester City è la famosa sera il venerdì sera 27 gennaio 2012 in cui ho le due grafiche i due inni pronti uno Maxi Lopez e uno Tevez ricordo che quella sera a Riedobraida esce è tutto fatto col Manchester City Maxi Lopez era in albergo in piazza della Repubblica ad aspettare il verdetto se doveva tornare a Catania o se rimaneva Maxi Lopez fosse tornato a Catania voleva dire che avevamo preso Tevez se invece Maxi Lopez rimaneva a Milano vuol dire che l'avevamo preso Adriano Galiani invita Riedobraida ad uscire dalla sede di Viaturati e andare a dire a Maxi Lopez che ci spiace molto lo ringraziamo per l'attesa che però poi non si può fare nulla deve tornare a Catania e il Milano ha preso Tevez e in attesa dell'ultima ufficialità io evidentemente ho pronto il cartello dell'inno per Tevez al Milano durante il tragitto fra Via Turati e l'albergo di Piazza della Repubblica a piedi sono era dato a piedi credo Ariado penso che avesse preso la macchina dal garage perché poi avrebbe dovuto tornare in sede nel giro di quei dieci minuti a piedi fra Via Turati e Piazza della Repubblica Ariado Braida riceve la telefonata che deve dire a Maxi Lopez invece che lo prendiamo perché con Tevez è saltato tutto è il 27 siamo attorno al 20 20 e 30 del 27 gennaio del 2012 Maxi Lopez viva Maxi Lopez forza Maxi Lopez a quel punto devi fare così perché era perché era saltata questa volta era saltata perché c'era stato un problema con la proprietà del Manchester City c'erano alcuni dettagli alcune sfumature era gli ultimi giorni di mercato la situazione si era tirata era stata tirata per le lunghe per tanto tempo e a quel punto a quel punto su alcuni dettagli su alcune cifre su alcune somme nello scambio di mail fra i due club alla fine era saltato tutto e a quel punto il Milan piuttosto che non prendere nessuno decide di prendere Maxi Lopez è il 27 gennaio del 2012 la mattina dopo a Milanello il 28 gennaio del 2012 Adriano Gagliani mi spiega che nella traduzione italiano-inglese c'era stata una incomprensione da parte della presidenza della dirigenza della proprietà del Manchester City ma che il mattino dopo avevano capito che si poteva forse ancora riprendere l'operazione però evidentemente ormai non era destino le operazioni saltate le puoi riprendere per i capelli una volta non due poi non so bene che cosa sia successo quel pomeriggio però non è successo più niente di rilevante dal silenzio assordante di quel sabato pomeriggio 28 gennaio 2012 ho capito che Tevez era definitivamente svanito però lo scambio Pato Tevez non lo facciamo per tanto lo sapete perché invece il prestito di Tevez non lo facciamo per una maledetta perché quando il calcio decide di essere maledetto è maledetto fino in fondo per una maledetta incomprensione nella traduzione di alcuni aspetti dell'accordo complessivo fra Milan e Manchester City nella traduzione italiano-inglese inglese-italiano è andata così è andata così è un capitolo di storia dicevano insomma che il 2012 era l'anno sarebbe stato l'anno sarebbe stato l'anno della della la fine del mondo mondo 5 lettere inizia per M come Mila e quindi però è finito certamente quel Milan quel Milan è certamente finito ma il Milan non finisce mai perché il Milan c'era prima ci sarà dopo c'è adesso adesso abbiamo altre priorità altri problemi però l'attuale proprietà e l'attuale Milan verrà a capo di se stesso perché il Milan insegna questo che come scrisse la curva su da Pietro Paolo Virdis quando venne a giocare con la maglia del Lecce la prima volta a San Siro nessuna notte tanto lunga da impedire al sole di risorgere quindi quel Milan il Milan della storica proprietà di Silvio Berlusconi certamente è finito in quel mese di gennaio del 2012 tra i messaggi di Tevez dell'11 dicembre la trattativa saltata del 12 gennaio e tra quelle comunicazioni italiano-inglese che hanno portato il Milan per una incomprensione sulla traduzione e su alcuni aspetti legali del contratto da Tevez a Maxi Lopez magari poi il calcio non bisogna mai accanirsi magari anche con Ibra Tevez ripeto col clima che c'era magari non saremmo riusciti a vincere il campionato perché poi quando c'è tensione in una società tu fai delle scelte nervose perché il Milan fa la scelta nervosa Allegri nella semifinale Coppa Italia di ritorno con la Juventus voleva far giocare Iepes e Maxi Lopez dall'inizio invece siccome c'era dualità siccome c'era rivalità siccome c'era duello Adriano Gagliani voleva a tutti i costi anche la Coppa Italia e chiese di far giocare Ibre Tiago un Adriano Gagliani sereno non contaminato dalla tensione probabilmente quella cosa non la fa anche se è vero che anni prima prima di un Real Madrid Milan di Champions League del 2003 con il Milan già qualificato Adriano Gagliani chiese comunque la miglior formazione a Carlo Ancelotti si giocava sul campo del Real Madrid Carlo Ancelotti aveva pensato un ampio turnover c'era il campionato la domenica successiva anche lì chiese la miglior formazione però io resto convinto che nel febbraio del 2012 Ibre e Tiago scendono in campo dall'inizio contro la Juventus perché c'è la voglia di prendere anche la Coppa Italia di presentarsi al presidente Berlusconi anche con la Coppa Italia Ibre l'aveva capito questo infatti giocò male e il problema vero è che Tiago Silva si infortunò e se Tiago Silva praticamente quella partita con la Juventus in Coppa Italia è l'ultima partita di Tiago Silva con la Magna del Mina perché poi fa pochi minuti la partita successiva con la Roma ma come ci disse Adriano Gagliani se non recuperiamo Tiago Silva è finito tutto infatti è finito tutto ma tutto è figlio tu non chiedi per caso per sfizio di far giocare Ibre Tiago perché lo chiedi perché evidentemente quello è il momento di 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 chiederlo quando quando c'è tensione la società non è serena tu forzi delle cose che poi ti si ritorcono contro quindi sono tanti i motivi per cui quella maledetta stagione 2011-2012 è andata così abbiamo cercato di riassumerli ve l'avevo promesso ho cercato di raccontarvelo nella maniera più assettica e cronistica possibile un abbraccio a tutti e state in casa